ola chicos siamo tornati con la nostra carriera del barcellona ragazzi andiamo subito a salutare camera leonardo che ha messo mi piace l'ultima foto grande in descrizione link a tutti i miei social ai canali dei brainless ragazzi grande ritorno della carriera del barcellona che mancava da un po quindi mi raccomando spacchiamo il like voglio 2000 like a questo episodio altrimenti non si va avanti andiamo a fare gli allenamenti guardate abbiamo suare sanchez gabi gol romagnoli e cerni vediamo cosa ci combineranno signori 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 cacao dunque ragazzi non mi ricordo neanche più dove siamo rimasti abbiamo giocato quattro partite in campionato siamo al terzo posto sulle due lunghezze dal siviglia oggi andremo a giocarci granada via real e poi partita di champions league con il celtic andiamo a giocarci questa partita con la nostra rosa titolare diciamo con di bala davanti neymar e messi signori che a gennaio ho deciso lo venderò vediamo se arriviamo a più di 2000 like perché ormai sta scendendo lo vendiamo al 100 per cento anche se non lo vendo non lo faccio più giocare avanziamo e dunque signori vamos quanto mi scazza che ci sia scritto el libertador sul nome dello stadio ma vabbè sorsone ragazzi come vedete siamo a due punti come dicevo prima dal siviglia e vamos signori svappata e via molto bene palla nostra abbiamo messo la divisa tutta arancione del granada cerchiamo di portare a casa i tre punti signori visca barsa sanchez allarga per messi che non è salito attenzione messi messi si fa rubare il pallone è finito ormai messi ragazzi neymar neymar allarga tutto ancora andrea gomes che arriva un po' lungo sul pallone poi la finta dentro prova il cross per la testa di Dybala ma ci arriva prima Martins e vamos con un altro cross battuto da Oziakup arriva a mano Las Hoyer Hector Bellerin che se ne va di prepotenza lungo la fascia non lo ferma nessuno Hector non lo ferma nessuno bella la palla dentro per Dybala che non arriva sul pallone rimessa laterale per il granada Bellerin ancora Bellerin ancora in velocità ancora in dribbling Bellerin serve adesso Messi attenzione Messi c'è ancora il dribbling Messi si bello adesso dentro per Dybala 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 signori gol lasso andiamo a rivederlo lo spunto della pulga che ancora il piede fatato per i passaggi e il tocco di classe della Hoya Dybala 1 a 0 Vizca Varsa attenzione Oziakup con questo tiii con questo passaggio indietro così che va a servire l'attaccante del granada che per poco non pareggia finisce qua il primo tempo 1 a 0 Messi ragazzi ve lo dico nel 2019 è finito completo ragazzi mettiamo dentro croccantè e teglio al posto di Andre Gomes e Messi signori eccolo qua croccantè ragazzi inizia la seconda frazione di giuocco Occio adesso Abo Aghi Abo Aghi riesce ad effettuare il cross ci arriva prima Bellerin che è un difensore strepitoso signori non smetterò mai di dirlo Macis la palla dentro ancora Macis al tiro e c'è l'1 a 1 ce li siamo proprio persi ma persi 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 ragazzi rivediamo i nostri difensori completamente aperti poi in due su un uomo solo croccantè Renato Sanchez ancora croccantè che poi la perde palla di Ozzy a cup larga per Cristian Teglio la finta Teglio entra in aria la perde sul Saul Iman la mette fuori Occio sempre qua i cross Gabri Gabrisco Arnabal come cazzo si chiama la mette fuori Cuenca ancora un altro cross Brauter Stegen vai subito su Neymar veloce ecco Neymar lungo ti sta palla Oney Oney che se ne va stanco morto finito completo Oney 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 si vai col gol della merda Cristian Teglio gol l'asso della mierda rivediamolo Neymar pallone dentro e Cristian Teglio arriva col piattone non fu niente il portiere adversario 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Barca e vamos così Renatino apre giù per Neymarito vai così Neymarito dalla dentro dalla dentro che vamos con di bala di bala di bala la doppietta la doppietta della foglia di bala signori via così 2 a 1 lo faccio meglio lo faccio meglio il tocco a giro così 3 a 1 visca barca vamos e finisce qua la partita molto bene è tornato martial dall'infortunio che bene ragazzi adesso andiamo a giocarci questa partita con la nostra seconda squadra inquadrato alexandre patto avanziamo ragazzi via real barcellona gran partita sorsone e vamos subito gabigol che se ne va da solo ragazzi attira su di sé 3 difensori molto bene serve levandoski che scarica subito un destro da fuori di poco alto sopra la traversa ut attenzione scarico su cerishev attenzione cerishev ancora vamos la palla dentro mamma mia patto di testa Ter Stegen in due tempi mette giù il pallone noccio cerishev su costa ancora cerishe attenzione i cross ragazzi che sono sempre pericolosi e c'è il gol ed è un autogol di Romagnoli mi sa ragazzi mi sa che è un autogol di Romagnoli mamma mia che roba brutta è Romagnoli quello vara che intervento ragazzi mamma mia a Romagnoli addirittura gli autogol ci facciamo e siamo sotto perdono il pallone Dani Sebaios Dani Sebaios si prova lui col sinistro tiro di merda Denis Suarez stoppa di petto la mette giù attenzione Denis Suarez dentro mamma mia ancora Denis Suarez si Denis Suarez poi fa sta cappella non arriviamo tiro arriva Serni che prova addirittura lo skill goal ma cosa cazzo sto facendo finisce il primo tempo ragazzi una roba obrobriosa inseriamo Neymar per Serni visto che si sembra essere fatto male inizia il secondo tempo ragazzi bisogna spingere quindi andiamo in ultra offensiva voglio tutti davanti cazzo attenzione ancora Sergi Roberto il cross bello questo ma Victor Ruiz ci arriva Denis Suarez mette giù Lewandowski salta uno vediamo se ne salta anche un altro riesce ad andare al tiro la bomba potentissima Zenko ancora in calcio d'angolo vamos Barsa ragazzi altro calcio d'angolo non ci arrivano di testa mette giù Lewandowski servito adesso Denis Suarez ancora lui il tiro ancora un'altra bomba ancora Zenko che para che prova a servire Denis Suarez ancora per Lewandowski vai di potenza leva di potenza tira bene cazzo sta palla cazzo sto portiere le sta prendendo tutte ragazzi vamos ancora dai e culibali di testa eeeh se facevi gol da lì auguri signori il pallone resta lì ocio questo defisico magari chiamiamo un altro cosa dite rubargli il pallone cosa vogliamo fare bato gol non ci voglio credere ragazzi una roba vergognosa puttana la maiala ok che è un po' che non gioco però cazzo Lewandowski Lewandowski ha veramente il carretto dietro eh ragazzi Neymar provaci Neymar ancora sto portiere che le prende tutte boia di cos'è sta roba Dani Ceballos Dani Ceballos bello il dribbling di Dani Ceballos il tiro e ancora Azenko che para dietro Denis Suarez della palla per Palencia che ci prova addirittura anche lui ma c'è Azenko in porta è più grande della porta sto portiere oggi cazzo allucinante ragazzi Lewandowski apri giù per Gabigol che è finito morto Gabigol è finito morto dentro la palla per Lewandowski all'ottantaduesimo prendilo sto pallone attenzione Romagnoli in attacco anche lui dentro Sergi Roberto ancora palla nostra Palencia Gabigol sì per Dani Ceballos c'è sto cazzo di gente in mezzo arriva non ci voglio credere stai puttana ma passala quella palla di merda madonna Gabigol che ha paura del pallone ragazzi occhio al cross dentro la girata di testa Denis Suarez ancora loro ancora noi e l'arbitro faccia di merda che fischia sul nostro ultimo contropiede e perdiamo 2 a 1 signori col viglia reale Cerni si è rotto 3 settimane quindi via uno cioè dentro uno fuori in altro boh ma proprio spettacolo ragazzi e non capisco come mai Neymar abbia la maglia in casa e i pantaloni calcettoni fuori casa i bug di FIFA signori andiamo a giocarci partita contro il Celtic di Champions qua bisogna vincere assolutamente tutto è pronto signori siamo fuori casa contro il Celtic in Scozia Sorsone Champions Cup e via Dybala Dybala prova a metterla così per Neymar Neymar il sombrerone bello il sombrerone poi il cross Messi di testa la mette fuori ancora Messi Messi fuori da distanza siderale il portiere ce la fa Neymar la mette il tocco dentro Bitto non c'era nessuno in aria Hector ancora mamma santa per la pulga la pulga Messi i dribbling di Messi grande Messi Messi ancora Bailey non ci voglio credere ragazzi Ayer Occio Rogic Gamboa Gamboa la palla dentro Dembele grande Manolas e finisce qua il primo tempo 0 a 0 pochissime azioni ragazzi c'è una roba brutta ma brutta brutta il Napoli sta vincendo 2 a 0 intanto con l'Ajax nel nostro girone proviamo a cambiare le ali signori fuori nei mare messi dentro Anthony Martial e Christian Tejo e vediamo e speriamo che vada meglio la seconda frazione di gioco Teglion è entrato eccolo vai Christian vai Christian Tejo il cross Cesc madonna che schifo Sanchez occhio ragazzi colpo di testa mamma mia roba che ce la mettono pure dentro Martial mettiamoci in offensiva ragazzi perché manca pochissimo manca pochissimo di bala stop mette giù per Sanchez palla ad Oziakup 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 allarga tutto dentro Teglio ancora per Oziakup vai Oguzzano Oziakup non ci voglio sì che ci voglio credere Oziakup per gli 1 a 0 al settantesimo signori con la complicità del portiere avversario che se la schiaccia sotto la scella pezzata è la palla che va in rete gol lasso insomma mica tanto l'importante è Vizca-Barsa 1 a 0 Tejo vai Cristian vai Cristian vai Cristian vai Cristian grande blocco di Oziakup vai Cristian vai Cristian Tejo e se la lunga ancora cool però forse ce la fasi Cristian Tejo dietro per Oguzzano Oziakup per la doppietta per son alle e vamo con il 2 a 0 Vizca-Barsa signori Oziakup con il numero 55 sulle spalle vergognoso la mette dentro aveva dato l'autogol al portiere col primo gol che bene ragazzi Oziakup ancora la caccia del pallone comette fallo attenzione 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 potrebbe esserci il cartellino somma di ammunizioni e cartellino rosso all'ottantaquattresimo per Oguzzano Oziakup fa tutto lui oggi ragazzi grande palla rubata da Andre Gomez e qua finisce la partita abbiamo vinto questo è l'importante nonostante l'espulsione del nostro Oguzzano siamo a pari punti ragazzi con il Napoli che però ha una differenza che uguale alla nostra ma ha fatto 5 gol invece dei nostri 3 quindi per la qualificazione nessun problema ragazzi mi raccomando arriviamo a 2000 like a questo episodio della carriera col Barcellona prossima volta vedremo quella con l'Aston Villa mi raccomando signori ci vediamo al prossimo episodio come sempre con tanta qualità ciao belli